50 anni non sono pochi, un'occasione importante di celebrazione ma soprattutto di riflessione. Il tema degli Stati Generali è molto importante, il fatto che ci si è riusciti a sedere al tavolo ben quattro ministri, tema frutto evidentemente di un grande lavoro da parte di Affina del Presidente Amato, per fare in modo da porre al centro dell'agenda governativa la costruzione delle marine, che è un tema su quale si è investito fortemente il Comune, la Regione e gli enti locali, con la quale si discute per dare la possibilità a coloro che comprano una barca di poter avere un posto barca. Su questo la Banca di Credito Cooperativo, vicina a questo settore determinante e che dà lavoro a tantissime persone, è disponibile a intervenire attraverso anche il proprio gruppo bancario per finanziare in progetti di project financing ed altro la costruzione di marine allo scopo appunto di creare quel valore aggiunto e incrementare quel prodotto interno lordo regionale, ma secondo me di tutto il mezzogiorno, di cui abbiamo bisogno.